Salve a tutti, sono Simone D'Angelo da Roma e il drink che ho realizzato grazie all'internatività al mojito perché ho utilizzato per questo drink il basilico perché oramai purtroppo tutti quanti quando si avvicinano al balcone ti dicono mojito, capirosca, capirigna sempre i soldici e classici drink mentre io ho voluto realizzare qualcosa di alternativo, di diverso e ho usato dell'ua, del basilico e soprattutto dello zenzero lo zenzero dovete sapere che è un antiossidante e soprattutto un antibiotico naturale adesso andremo a fessare senza fare molta forza ok, volevo ringraziare soprattutto la VerboiGard in questo caso l'Absolute che ci dà la possibilità ancora oggi di gareggiare di riunirci, di stare insieme e di metterci in competizione cosa che purtroppo le aziende oggi in questo periodo di crisi soprattutto non ci danno questa opportunità la base principale del drink è Absolute Ruby Red secondo me è un prodotto fantastico e di tutta la linea dell'Absolute Flavor andrò a mettere 1.5 di Absolute Ruby Red del Sour questo Sour è un Sour particolare l'ho fatto creando e spremendo non soltanto il lime e lo zucchero liquido ma soprattutto tutti gli agrumi che abbiamo noi in Italia tipo pompermo rosa, pompermo giallo, dell'arancio e così via per finire un po' di cranberry juice ok, andiamo a miscelare cosa che mi vorrebbe anche dire è il vero e responsabile ragazzi siamo noi che abbiamo in mano la vita di tutti i ragazzi e comunicare a loro, far capire a loro il vero e responsabile secondo me è fondamentale anche la musica che ho scelto accuratamente ci accompagna questo tempo ok bisogna un altro grande applauso prima di chiudere come decorazione ho scelto una semplice farfalle stagliata da me fatta con dei rozziensi è una cosa molto semplice da realizzare e quindi è una cosa molto semplice è più Grazie a tutti.